trovate anche tutte le notizie riguardanti il mondo milan dalla prima squadra alla primavera fino alla femminile ieri sera i rossoneri sono scesi in campo a san james park in inghilterra per l'ultima partita del gruppo f di champions league è arrivata la vittoria ma non è servita per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea infatti il contemporaneo pareggio di dortmund tra borussia e psg hanno qualificato tedeschi e francesi come prima e seconda classifica del girone il milan conclude il raggruppamento al terzo posto e tra virgolette retrocede in europa league queste sono le nostre pagelle che come vi dicevo prima trovate sul nostro sito pioli 4 e mezzo questa squadra non è d'europa league e non è da meno 9 dall'inter e da meno 7 dalla juventus in campionato squadra già forte ma dai margini di crescita molto ampi maignan sette e mezzo ennesima parata straordinaria sicuro nelle uscite alte carisma e sicurezza e poi la parata su di mares prestazione da numero uno al mondo calabria cinque e mezzo tecnicamente sbaglia tanto troppo tomori sette e mezzo salva un gol fatto leader difensivo prende un palo nel finale gran partita di fic fernandez sei e mezzo molto attento chiude tutto quello che può e ogni tanto gli viene voglia di scappare nell'area avversaria ma poi si ricorda che un difensore centrale bene così florenzi sei anche lui non fa una bella partita tecnicamente però fa il massimo e risulta utile alla causa musa sei e mezzo siamo ripetitivi ma quanto corre nel primo tempo serve una grande palla leao per il possibile vantaggio del mila deve migliorare tecnicamente e per le qualità che ha deve incominciare a migliorare la finalizzazione renders si più partita dei due volti nel primo tempo perde la palla che poi porta al vantaggio del new caster ma nel secondo tempo ritrova il vero renders geometrie e dribbling giocatore forte che migliorerà nella costanza di rendimento soprattutto quando tornerà a giocare sempre nel suo vero ruolo love to cheek se più fisicamente se c'è o non c'è cambia il mondo sbaglia qualche scelta soprattutto nel secondo tempo ma nel primo tempo tiene botta contro tutti anche se non si vede è determinante pulisi c'è sei e mezzo primo tempo male ma poi nella ripresa trova il pareggio importantissimo per il mila leao sei più tornava dall'infortunio e colcolando i suoi 190 centimetri beh il recupero atletico richiede più tempo prova ad incidere nel match ma si divora due gol però averlo che ha sempre panico psicologico agli avversari anche quando gioca meno bene girù sei più grande assist però la sua partita è un po apatica jovic 7 e mezzo ancora ancora un grande luca jovic in 17 minuti più recupero fa di tutti regista offensivo di questa squadra manda in porta leao e tomori due pali sfiora il gol su assist di leao ed gli viene affidata la palla da ocafor che poi porterà il gol di ciuqueze merita molta più fiducia da tifosi e allenatore ciuqueze 7 più mercato sbagliato ciuqueze tante chiacchiere i ragazzi giovani vanno aspettati quando si capirà questo si smetterà di giudicare frettolosamente ogni calciatore entra e fa un gol meraviglioso il secondo in champions league ocafor 6 e mezzo entra benissimo con gli spazi si esalta giocata decisiva nel gol dell'1 a 2 spacca in due newcastle con una grande accelerazione e poi serve l'assist per ciuqueze serviva il suo ritorno queste sono le nostre pagelle le trovate sul nostro sito ac milaninsight.com dove vi ricordo che sarete aggiornati sul mondo mila h24 prima squadra l'appionato primavera femminile e non solo sempre forza milan grazie a tutti